Voglio presentare agli italiani i ministri del nostro governo prima. Luigi Di Maio lo aveva anticipato in più occasioni il tanto atteso annuncio sulla squadra di governo in caso di vittoria dei 5 stelle alle elezioni. Ora è realtà. Le persone che conoscerete oggi sono persone che mettono testa e cuore in ogni cosa che fanno. 17 ministri di cui 5 donne, tra di loro il professore antiburocrazia Giuseppe Conte alla pubblica amministrazione, il campione olimpico Domenico Fioravanti allo sport, il docente contrario all'austerity Andrea Roventini all'economia e le poltrone di tre ministeri chiave esteri, interni e difesa saranno rosa. Il ministro degli affari esteri è la professoressa Emanuela Derre. Il ministro dell'interno è la professoressa Paola Giannetakis. Il ministro della difesa è la dottoressa Elisabetta Trenta. E ancora il primo firmatario della proposta di legge sul divorzio breve Alfonso Bonafede alla giustizia. Il professore possibilista sul ritorno dell'articolo 18 Pasquale Tridico al lavoro. Il medico che ha sottolineato l'importanza dei vaccini Armando Bartolazzi alla salute. Qualcuno in questi giorni ci ha deriso. Rideremo noi lunedì, quando probabilmente gli italiani ci porteranno al 40% per poter governare questo Paese e portare questa squadra di governo al governo del Paese. E dunque questa è la squadra. Buongiorno Danilo Minnelli. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Candidato al Senato in Lombardia per il Movimento 5 Stelle. Esatto. Naturalmente il 40% non è tanto. Adesso non si possono dire i sondaggi. Quindi non diciamo a che punto siete o non siete. Però sarebbe un risultato la sparata. Nel 2013 ci davano al 10% e abbiamo preso il 25%. Adesso ci danno al 30%. Non vedo perché non arrivare al 40%. Però quel servizio bellissimo che avete appena fatto vedere. Dimostra una cosa che non ha precedenti. Chi vota Movimento 5 Stelle ha un candidato premier Luigi Di Maio. Un programma votato un milione di volte e una squadra non di poltronisti. Perché non ci sono io, non ci sono i portavoce uscenti. Ce ne sono due su 18. Ma di gente con esperienza, competenza e con tanto cuore. Perché quelle persone hanno fatto della loro professione una passione, un amore. Hanno trattato i dossier internazionali nell'ambito dell'immigrazione, della politica estera, dell'economia più importanti. E si mettono al servizio della nazione. Sono patrimonio del paese. Non sono patrimonio timbrato, marchiato, 5 stelle. Ed è meravigliosa come cosa. Quindi è un pacchetto chiuso. Io dico se voti qualcuno o d'altro non sai chi andrà come Presidente del Consiglio, non sai chi andrà come Ministro, certamente andranno i soliti noti che hanno fatto disastri negli ultimi vent'anni. Allora, questo è la vostra proposta. Però effettivamente, anche per via di una legge elettorale che complica il cammino a tutte le formazioni singole, poi non è mica detto che anche se raggiungeste un ottimo risultato, comunque degli alleati li dovrete trovare, immagino. Ma io penso che il 40% non sia un'utopia ma sia realizzabile. Comunque si governa con il 51%. Il 40%, quel sistema elettorale qua l'hanno fatto gli esperti della politica e della peggiore legge elettorale europea, ce lo dicono i tecnici. Comunque se arrivi intorno al 40% puoi vincere da solo. Se ci dovesse mancare qualche cosa. La cosa che è certa è che senza il Movimento 5 Stelle non ci potrà essere alcun governo, a meno che si ammucchiano tutti gli altri. E se lo fanno, significa che alle prossime elezioni avremo il 51% perché sarà la prova provata che tutto il sistema di potere è coalizzato contro di uno. E se si coalizzano tutti contro di uno, significa che quest'uno è dalla parte del bene. Detto questo, spostiamo il paradigma. Oggi si è sempre parlato di spartizione. Cioè, si andava ad elezione, non c'era un vincitore, poi dopo si sedevano un tavolo in una stanza buia e si spartivano che cosa? Le poltrone. Oggi bisogna ragionare sui punti programmatici. Io sono felice che tutte le forze politiche convergano contro il taglio delle tasse, ma non l'hanno mai fatto negli ultimi vent'anni. Noi ci siamo applicati una spending review sulla nostra pelle, dimezzandoci gli stipendi e rifiutando più di 70 milioni di euro di finanziamenti pubblici. Abbiamo la credibilità per farlo. Proponiamo un reddito di cittadinanza, gli altri cambiano il nome, il reddito di dignità, il reddito di inclusione. Il principio è quello. Mettiamo nero su bianco una regina di punti e i parlamentari ci devono rispondere in Parlamento. Però magari le altre forze potrebbero dire, sì, siamo d'accordo su tutti, però a me non piace quel ministro che avete presentato all'agricoltura. Voglio proporvi un altro nome, questo qua, il mio. Allora, io provo a... E' anche legittimo che uno, non è che necessariamente vi propongono poltronisti, come li chiami lei. Magari dice, ah, c'è un ottimo professore della Università Tal d'Italia. La prima cosa che chiedo alle altre forze politiche è, ci date un giudizio su quelle persone qua quarantenni, che hanno, sono al massimo della carriera anche all'estero, che non sono del Movimento 5 Stelle ma hanno sposato il progetto di legalità e di trasparenza. Io vi faccio un esempio. Dovranno studiarli perché non sono molto conosciuti. Ma per fortuna, perché quelli conosciuti hanno rovinato l'Italia. Ma per fortuna, spero che questo applauso sia per i giovani. Ma, signori miei, io sono in giro per mercati, per piazze da sempre, non in campagna elettorale. E quello che ci chiede la gente libera, non quello di casta, non la gente di sistema, rinnovamento della classe politica, li avete visti? Sono ragazzi di 40, 50 anni, stimatissimi nelle commissioni europee, all'Unione Europea, sui tavoli internazionali. Che cosa hanno che non vanno? Forse perché li ha proposti il Movimento 5 Stelle. Cioè, siamo ancora al preconcetto che uno è bravo, ma dico di no perché è proposto dal Movimento 5 Stelle. Però le faccio un esempio. Il generale prima del Corpo Forestale e oggi dell'Arma dei Carabinieri, che quella signora che prima stava parlando ha cancellato il Corpo Forestale, Sergio Costa. Sergio Costa è stato colui che da generale del Corpo Forestale ha scoperto in Campania, Caserta, la più grande discarica abusiva di rifiuti tossici d'Europa. Avete visto gli scandali in Campania, avete visto Fanpage, avete visto come politici corrotti, imprenditori senza scrupoli e camorra inquinano e ammazzano i cittadini, non solo Campani. Lui è la persona giusta per abbattere questo sistema di crimini ecologici. Ma chi ci può dire di no ad una persona, ad una figura, ad una competenza, ad un appassionato che lotta contro la criminalità come il generale Sergio Costa? Chi è un servitore della patria? E mai come adesso l'Italia ha bisogno di servitori della patria? Allora, ci sono tra questi nomi, ne leggo tre, c'è Pesce per l'agricoltura che ha lavorato col Ministro Martina e ne parla anche, devo dire, con stima. C'è Giuliano all'istruzione che ha collaborato a scrivere la buona scuola. C'è la Giannetachis che ha firmato, firmò per il referendum, per il sì del referendum. Allora io le chiedo, allora forse non era tutto da buttare il lavoro di questo governo. No, guardi, io sorrido perché mi viene, io dei tre le porto un esempio, abbiamo pochi secondi, il professore è un preside, Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano era a favore del progetto iniziale della buona scuola, ma sa perché? Perché Renzi lo presentò come io, condivido con tutti i presidi, i professori, un progetto, cioè vado a chiedere ai presidi, i professori che cosa vorrebbero fare. Non ha mai considerato nessuna richiesta di chi, con l'amore e la passione sputando sangue nelle scuole, sa che cosa si dovrebbe fare. Quindi cosa ha detto? Quando ho visto che cosa è diventata l'etichetta fregatura presa in giro del buona scuola, la classica semantica delle fregature dei cittadini, che è una cattiva scuola, si è tirato indietro. È normale così? Perché se ti presentano un progetto, come ha sempre fatto Renzi, un comunicatore da venditore di pentole, le pentole più buone, il materasso migliore del mondo e poi ti dà un materasso scalcagnato. Ha cambiato idea. Ha cambiato idea. E la Giannetakis che proponete all'interno però l'ha firmata la petizione, cioè c'è la sua firma, la petizione per il SIA referendum. Questo dovete chiederlo a lei, il SIA referendum, vediamo come era il testo che sponsorizzava, perché anche qua io l'ho passata sulla mia pelle la questione referendaria e sa com'era venduta da Renzi? Tagliamo il numero dei senatori, invece aumentavano il numero dei politici, garantendo alla casta tutti i privilegi. Sarà stata fregata anche la dottoressa? Speriamo che quando sarà ministro non si faccia fregare. No, però guardi, è importante anche leggere i curriculum. Qua si tratta di curriculum internazionali. Adesso io torno serio. Qua veramente non abbiamo proposto un governo del Movimento 5 Stelle, ma è del Movimento 5 Stelle per la nazione. Questa è una cosa che non si è mai vista. Cioè chi va a votare il Movimento 5 Stelle oggi conosce, ripeto, quello che si farà domani. Basta votare. È come dare ai cittadini una vettura nuova chiave in mano, mentre là gli altri non ce l'hanno, non è neanche più una vettura usata. È una vettura completamente scassata, priva di motore, in cui metteranno su qualcuno che fa finta di guidarla, ma non può perché non c'ha il motore, che sono i soliti noti. Io penso che più di così non potevamo fare. Sapete tutto di noi. Sapete chi siamo. Conoscete il programma. Sapete chi lo condurrà in porto. Non abbiamo rubato un centesimo in cinque anni. Abbiamo sempre fatto quello che dicevamo e più di così hanno fatto promesse, già disattese, tutte. Abbassamento delle tasse. Signori mei, qua siamo in una tv di proprietà di Berlusconi, ma io non posso ricordare a casa che è 24 anni che promette di abbassare le tasse e l'unica cosa che ha fatto sulle tasse sono i condoni fiscali per i grandi evasori. Se votate il Movimento 5 Stelle, la prima cosa che andremo a toccare sono proprio i grandi evasori, coloro la cui responsabilità ha portato le tasse alte e le pensioni basse. Facciamo per gli evasori. Che cosa si fa? Lo scrivo qua. Allora, innanzitutto i reati. Noi introdurremo innanzitutto un daspo per i corrotti. Quindi corruzione, evasione, tutto quello che ha rovinato la pubblica amministrazione. Chi commette un reato contro la pubblica amministrazione di corruzione non potrà più contrarre, non solo essere candidato o deletto, ma non potrà più contrarre affari con la pubblica amministrazione. A volte però lo dimostra il fatto che le vostre candidature hanno anche all'interno avuto qualche problema. Ci sono state 15 espulsioni durante questa campagna elettorale da parte vostra. quello che non si riesce a fare sono i controlli in Italia. Voi stessi avete avuto problemi a controllare chi bonificava effettivamente e chi no i soldi del rimborso. Non torniamo su quella vicenda perché l'abbiamo già spiegata. Però io sono felice di dirgli... Come si fa a controllare poi questo? Io sono felice che lei mi faccia questa domanda perché innanzitutto siamo almeno dell'1% dei candidati del Movimento 5 Stelle, il discorso che lei sta facendo. Ma è normale che ci sia una forza politica vincente come la nostra, ci sia qualcuno che voglia approfittarsene. Ma la bontà di una forza politica è come reagisce in situazioni del genere. Ma li abbiamo cacciati. Ma lei sa che le altre forze politiche hanno candidati pieni zeppidi, indagati, imputati e condannati. Forza Italia, fonte l'espresso neanche del sottoscritto, ha il 17% dei candidati indagati, imputati o condannati. Io da cittadino normale non voterei neanche sotto tortura ma forza che ha il 17% dei condannati che candida. Noi li cacciamo chi dona di meno, non ruba, dona di meno. Ma io mi riferisco al fatto che in Italia i controlli o si fanno con delle leggi che si stratificano, leggi su leggi su leggi su leggi, che paralizza poi il lavoro di chi vuole magari semplicemente aprire un'impresa e lavorare col pubblico, oppure non si fanno. Cioè questo dico, perché voi dite per esempio anche il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza richiede che le persone accettino dei lavori che poi vengono proposti. Ma come facciamo a controllare nel paese dei falsi invalidi? Allora innanzitutto il controllore non deve essere controllato. Lei sa che in Italia la specialità dei vecchi partiti è quella di aver creato un sistema per cui chi è controllato è lo stesso di chi controlla o il controllore è nominato da chi è controllato, che è una follia. Ad esempio la questione banche. Banca d'Italia è di proprietà di partecipazione azionaria delle banche private. Cosa facciamo noi come reazione? Di fatti avete visto i crack bancari perché né la Banca d'Italia né la Consol che sono gli enti indipendenti di controllo non hanno controllato. Cosa facciamo? Facciamo una banca pubblica di investimento. Quindi i cittadini, gli imprenditori quando vogliono avere un prestito per comprare casa o un prestito per fare impresa non avranno una banca che ha il solo fine di lucro privata ma avranno una banca pubblica che vuole fare sviluppare l'economia reale. Questo comporta una cosa straordinaria. Una corretta concorrenza, una sana concorrenza tra la banca pubblica e la banca privata. Poi dividiamo la banca di investimento dalla banca commerciale. Siamo tornati all'ambito privato. È una cosa che cambierebbe completamente l'economia. Eccoci di nuovo ben ritrovati. Ultime ore davvero di campagna elettorale. Qui con noi Danilo Toninelli. Il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua squadra. Una cosa interessante. Ho visto che alla sanità e poi all'economia sono andati due ministri. Quello dell'economia dice uscire dall'euro non se ne parla. Quello della sanità dice assolutamente sì ai vaccini. Quindi avete un po' risolto questi due perché vi avevano criticato perché sull'euro e sui vaccini non si capiva bene da che parte stavate. Ma sull'euro basta guardare il programma per le politiche per le elezioni europee del 2014. Dai sette punti il referendum sull'euro era l'ultimo. Significa che la cosa più importante... C'era? Ma rimane. Ma la cosa più importante... Rimane il referendum? Ma la cosa più importante è... Ma quello è un'extrema razio. Perché oggi è necessario che l'Italia torni a contare? Perché oggi il sistema Europa mette l'Italia come paese di serie B. Noi vogliamo andare in or... Prima dobbiamo riacquistare credibilità in Italia, mettere bene a posto, rilanciare l'economia reale e poi quando vai ai tavoli europei puoi contare. Ma se noi chiediamo ad esempio di condividere con gli altri 27 paesi europei le spese e le problematiche sull'immigrazione. Oggi chi c'è andato? Renzi, prima, Gentiloni, ci hanno dato due dipende. Quindi il referendum rimane? Il referendum sì. Il referendum è l'ultimo, è l'experato. No, faremo di tutto per non arrivarci. Sperabilmente no. La risposta è si spera di no, ma comunque nel caso sì. Oggi l'Europa va a tante velocità. All'Italia è data la marcia più debole, ci fanno andare a 10 km orari. Ma noi siamo il terzo contribuente europeo, devono condividere con noi. Se ci affacciamo al Mediterraneo e arrivano tutti gli immigrati, devono condividere con noi queste problematiche. Vaccini sì, io ho due bambini, li ho vaccinati. Chi dice che siamo stati contro i vaccini dice una sacrosanta falsità. La classica fake news. Quindi è un referendum come estrema razza, vaccini sì, con anche l'obbligo così come... Certo, tornando indietro, non ha 10 vaccini che non c'è da nessuna parte al mondo. Ah, quindi... Quello che conto è importante dirlo a casa. Torniamo al decreto precedente, il disastro del Ministro Lorenzini. È importante però accompagnare, informare. Quel decreto lì, io da padre, ha creato veramente un vero e proprio terrorismo, paura. Oddio, adesso i miei bambini, siccome devo aspettare sei mesi per farlo vaccinare, non me li iscrivono a scuola. Sono arrivati al disastro più totale nella gestione. Ed è colpa di chi ha comandato quel Ministero della Sanità. Quindi, diciamo, vaccini sì, ma non obbligo per i 10 che ci sono adesso. Ci sono i paesi che non hanno gli obblighi, ma noi siamo per gli obblighi, hanno le raccomandazioni. Cioè, lo Stato accompagna, informa e spiega ai genitori l'importanza delle vaccinazioni e hanno la percentuale vaccinale più alta. Avete capito? Qua invece lo Stato è assente, i cittadini non sanno che cosa fare e di fatto è calata la percentuale vaccinale. Se fossero stati capaci di amministrare e governare, avrebbero informato i cittadini con i medici di base, con le scuole, con lo Stato, con i ministeri. Non l'hanno fatto perché sono dei incapaci, è inutile. E quindi l'incapace interviene con l'emergenza. Però è anche vero il contrario. Cioè, è stato introdotto l'obbligo proprio perché noi, rispetto ai paesi del Nord, stavamo scendendo. Ma secondo lei perché stavamo scendendo? Questo, sicuramente. Stavamo scendendo perché gli esperti della politica non informavano, accompagnavano le famiglie. Anche però per dell'informazione su internet che è assolutamente sbagliata sui vaccini, questo? Chi dice falsità su internet se ne deve assumere la responsabilità. E loro hanno infatti, i vecchi partiti, i nostri competitor, hanno cercato di sfruttare proprio alcune fake news su internet per addebitare il Movimento 5 Stelle. E' per questo che lei oggi si rivolge a me con l'incertezza del dire siete o non siete a favore. Ma lei guarda, io parlo sui fatti. L'attività parlamentare del Movimento 5 Stelle è l'attività parlamentare di chi è a favore dell'obbligatorietà dei vaccini con l'aggiunta delle raccomandazioni. Allora però siamo d'accordo che i medici contro i vaccini vanno radiati perché sennò creano quella confusione. La scienza è pro vaccini. Punto. Avete visto il nostro candidato Ministro della Salute. Ho poco tempo, quindi capisco che la domanda non sarà semplice, però 30 miliardi di spending review. Mi dice le due o tre cifre da dove le prendete? Allora innanzitutto chi ci segue da casa deve sapere che la spesa pubblica dell'anno scorso in Italia è stata di 827 miliardi di euro. Avete davanti una forza politica che da sola ha fatto risparmiare, non volendo i soldi pubblici, 100 milioni di euro. Ci sono delle sacche di sprechi incredibili, ne dico una. Ci sono 8 mila comuni circa in Italia e 10 mila società partecipate che ci costano un sacco di miliardi di euro. Che cosa sono le società partecipate? Quelle che gestiscono i rifiuti, i trasporti, l'energia, il gas e il teleriscaldamento. Le municipalizzate. Sono da vent'anni che i vecchi partiti nominano dei super commissari, Cottarelli, Bondi, Gutgel, Perotti per tagliarle. Tutte attività, tutti rapporti tenuti nei cassetti. Il principale cosa è tagliarle e partecipate. Perché non l'hanno fatto? Perché sono dei poltronifici in cui ci sono più membri dei consigli di amministrazione che impiegati ed operai. A botte di almeno 100 mila euro. Sono nominati dei partiti e una volta nominati restituiscono il pizzo di una parte di stipendi partiti. Quindi i partiti non li taglieranno mai. Noi non abbiamo nominato nessuno. Lì recuperiamo un sacco di miliardi. Allora grazie a Danilo Toninelli. In bocca al lupo anche a lei per la campagna elettorale. Magari ci rivediamo il 5 se avrà voglia di venire a commentare ai nostri microfoni i risultati delle elezioni. Noi facciamo lo speciale naturalmente lunedì mattina. Ci vediamo tra poco.